E' stata inaugurata la strada variante est di Penne, un asse che collegherà, superando il centro urbano, la provinciale 151 all'altezza del campo sportivo di Ossicelli e la statale 81 via Valeria. Un'opera pensata circa 17 anni fa che contribuirà a decongestionare il traffico veicolare sulla circonvallazione di Penne, oltre a consentire l'utilizzo del parcheggio della Portella che dà accesso al centro storico cittadino. Veramente un grande giorno per Penne e per tutta l'area Vestina. Voglio sottolinearlo perché quest'opera non è utile solo a Penne, è utile all'intera area Vestina, a Picciano, a Loreto Prutino, a Villa Celiera, a Montebello di Bertona, a tutti i comuni dell'area Vestina. Quest'opera nel caso specifico di Penne ha due grandi funzioni. Io l'ho detto nel mio discorso, quello di decongestionare il traffico nell'area urbana e quello di valorizzare il parcheggio della Portella che rappresenta la più importante porta d'accesso al nostro centro storico. La strada che stiamo consegnando fondamentalmente è solo un lotto di un intervento della provincia di Pescara che riguarda un finanziamento di oltre 4 milioni di euro, che riguarda anche l'intervento sulla Penne e Loreto, che oggi Penne e Loreto è impraticabile perché è un cantiere. Da domani ci sposteremo su quel fronte, immediatamente continueremo i lavori su quel versante per consentire una transitabilità e una viabilità su quest'area interna particolarmente sentita. Tra l'altro abbiamo anche i mezzi pubblici che rasentano veramente le difficoltà quasi di non percorribilità. Grazie. Grazie.